quattro modi per dimostrarvi che ti ha già persa ti inseguirà se vuoi farti inseguire se vuoi farti cercare da un uomo devi fargli pervenire diciamo così il messaggio che ti ha già perso devi fargli pervenire il messaggio che te ne stai già andando che oramai ha perso il potenziale ha perso il feeling diciamo nei tuoi confronti e quindi tu non sei più succube diciamo così di queste situazioni ma ti puoi liberare anzi ti devi liberare e puoi tranquillamente non essere più soggiogata diciamo così dal suo fascino e quindi ci sono quattro modi per dimostrargli in modo tale che ti inseguirà il primo è quello di diventare imprevedibile non essere più prevedibile non dargli più speranze non dargli più possibilità di diciamo non dargli più non fargli più pensare che lui sia comunque coinvolto non devi più fargli pensare di essere coinvolto con lui diventando imprevedibile diventando misteriosa nascondendogli le cose non smettendoli di dirgli per filo e persino dove sei cosa fai con chi sei quindi questo è un punto fondamentale devi farlo e vedrai che lui inizierà a pensare che comunque il suo potenziale sta iniziando a scendere e ovviamente siccome nessuno vuol perdere ciò che riteneva acquisito vedrai che inizierà a fare delle cose per cercare in qualche modo di recuperare la situazione il che farà sì che più energie dedicare a te meglio sarà perché ovviamente più energie dedicati più si coinvolge la legge del coinvolgimento è sempre un po' quella diciamo che più energie mettiamo in una situazione più otteniamo dei risultati la seconda cosa è dargli un po' di tempo ma mai l'esclusività deve devi necessariamente vedere altre persone quando una persona non ti dà quello che tu vuoi devi necessariamente vederne altre frequentare altre concentrare la tua mente concentrare le sue idee su altre situazioni questo è molto importante fondamentale se tu vuoi ottenere dei risultati che possano essere dei risultati positivi nella tua vita questo è un punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti quindi impara diciamo a dargli un po' di tempo perché un po' di tempo si dà tutti diciamo ma mai l'esclusività quindi deve capire che ci sono altri uomini di mezzo che tu vedi tranquillamente altri uomini e che non sei concentrato su lui ma non perché glielo dice perché chi si loda si imbroda tu non devi dire assolutamente niente devi semplicemente farlo perché facendo le cose poi in qualche modo lo percepirai in qualche modo se ne renderà conto e questo diventa inevitabile insomma che che se ne renda conto per cui tieni presente questi fatti che sono da questo punto di vista sono fondamentali insomma non non potrà far a meno di rendersi conto di queste situazioni ecco quindi queste queste sono i primi le prime cose fondamentali basilari che che ti posso suggerire ed è molto importante questo perché tu puoi tenere presente che le situazioni si possono ovviamente manifestare in modalità diverse quindi nel momento in cui tu non dici nulla però vedi altre persone anche energeticamente questo viene trasmesso l'altra cosa e diciamo mostrare al mondo quello che si è perso cioè crearti anche dei profili social che siano sempre più accattivanti più intriganti in modo tale che assommato alle prime cose al fatto che tu non sei più disponibile al fatto che vedi altri uomini che lui desume questo e unito al fatto che appunto tu diventi sempre più bello più intrigante più nei social e quindi potenzialmente come dire inizierà a pensare che si è perso qualcosa e posso garantirti che questo punto di vista inizierà a cercarti inizierà a desiderarti soprattutto devi stare attento a non cadere nei suoi giochi mentali ovviamente perché non è che appena torna appena riprenda a fare un po' di losing un po' di love bombing quindi tu diciamo ci caschi subito perché altrimenti questo è sbagliato quindi tu devi dimostrare al mondo quello che si è perso lui ma non puoi essere subito lì disponibile appena ti dice qualcosa ad accettare comunque un coinvolgimento ad accettare comunque di essere nuovamente disponibile per lui perché altrimenti come dire risulti poco credibile risulti una persona con poche possibilità insomma di riuscire a a essere felice da un punto di vista sentimentale affettivo perché lui poi farà di te polpette quindi invece devi tenere duro e un'altra cosa che devi fare è lasciare che si inneschino delle competizioni delle sfide cioè nel momento in cui lui capisce che ci sono altre persone nel momento in cui inizia a inseguirti nel momento in cui inizia a fare qualcosa devi alzare gradualmente il livello della sfida devi dire no stasera un invito a scena guarda mi piacerebbe uscire con te però mi ha già invitato qualcuno ovviamente la scelta dell'antagonista deve avvenire cioè dirgli che è un antagonista soltanto quando lui ti invita quindi tu devi rinunciare ad uscire con lui per per fare altro ovviamente questo è importante perché fin tanto che non arriva la rinuncia fin tanto che ogni volta che ti invita tu vai beh non c'è nessuna sfida sì certo potrà pensare che vedi anche altri ma che lui comunque è la priorità e non appena ti cerca tu corri scodinzolando invece devi rifiutare rifiutarlo solo così inneschi una sfida e se lui ti dice dove vai cosa fai no niente non invita cena sai degli amici un amico un amico che ogni tanto mi invita cena buttala lì su un amico che mi invita cena oppure potrebbe essere il capo ufficio potrebbe essere un collega insomma il personal trainer della palestra insomma ti inventati qualcosa che possa essere un antagonista valido nei confronti di questa persona non il catramista a casa integrato diciamo quindi un antagonista valido che lo può mettere in scacco fondamentalmente ecco se segui questi quattro consigli in cui questi quattro consigli puoi dimostrarli che ti ha già persa e allora ti inseguirà allora sarà lui a desiderarti a desiderare di compiacerti e a venirti dietro fondamentalmente bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi andare sotto il video c'è il cuoricino e il cuoricino che significa super grazie puoi fare una piccola donazione diciamo al canale che è sempre comunque ben accetta quindi clicca sul cuoricino e poi anche solo un caffè come diciamo simbolico va benissimo e per simpatia ti ricordo inoltre di seguirmi su tutti i miei diciamo social anche instagram massimo terramasco ufficiale e anche tiktok e ti ricordo anche che sul canale ti puoi abbonare